E' tornati con l'altra metà dell'anello. Arrivederci presto! Arrivederci! Arrivederci! A me sembra essere buono questo signor Draghetto. Sì, però la nostra non è un'impresa facile. Dovemo scontrarci con questi fantasmini. Non sappiamo neanche dove si nascondono... Non aver paura! Intanto andiamo a riposarci. E poi domani si vedrà. Speriamo che sia, come dice il drago... Abbi fele, dai, andiamo!